Quick Heal Technologies Grazie alla propria esperienza nel settore software e alla sua presenza ormai ventennale in India, suo mercato di origine, è una delle principali aziende mondiali di sviluppo software antivirus e di protezione internet. Quick Heal Technologies È nata per soddisfare la domanda di software antivirus sviluppando così dei prodotti di grande affidabilità, esaltanti in termini di velocità e sicurezza. Quick Heal Technologies Ha oggi raggiunto una posizione di forza e credibilità sulla mappa dei software antivirus nel mondo. Per l'azienda, questo rappresenta la nascita di una nuova prospettiva, concretizzandosi nella realizzazione di una organizzazione globale, dotata delle competenze richieste ad un'azienda presente sul mercato a livello mondiale. Qualche numero di Quick Heal nel mondo 6 milioni di clienti attivi 250.000 imprese Oltre 10.000 partners Presente in 60 paesi Quick Heal Propone 6 prodotti per il mercato italiano 3 versioni Home Una versione per smartphone Android 2 versioni Enterprise Versioni Home Antivirus Pro Internet Security Total Security 3 versioni per 3 diverse tipologie di clienti Utente base Utente navigatore Utente esigente in termini di sicurezza Protezione smartphone total Security Per Android Protezione antivirus Antifurto Blocco chiamate ed SMS Sicurezza web Sicurezza web Parental control Backup Dei dati personali Versioni Enterprise Server Edition Protezione per server Windows Nuova Endpoint security 5 Protezione per reti server Air Client Windows Mac OS X Partners tecnologici Microsoft Gold Certified Intel Alcuni riconoscimenti AV Comparatives AV Test Certified 100virusbtn.com The top tens Perchè diventare rivenditore Quick Heel I rivenditori sono la chiave del successo Quick Heel A loro sono dedicati programmi, progettati e personalizzati Per far crescere il loro business e la loro esperienza Ecco 6 ottimi motivi per diventare rivenditore Quick Heel Presenti nel programma Partner 2014 1. Tutela dei suoi rivenditori È l'unico brand che dà garanzia assoluta Al rinnovo le licenze restano sotto il controllo del rivenditore Nel grafico, si evidenzia, come la garanzia del rinnovo Permette al rivenditore di maturare le proprie provvigioni anche in caso di rinnovo online Diversamente dagli altri brand Che attraverso il rinnovo online Si accaparrano il fatturato derivante da un cliente presentato precedentemente dal rivenditore Senza nessun riconoscimento provvigionale Inoltre Ogni nuova licenza venduta online Viene assegnata al rivenditore più vicino all'acquirente 2. Software ad uso iniziale gratuito Disponibilità licenze versioni Home Con chiave valida 90 giorni Per un primo periodo di utilizzo Ulteriore tutela La tracciabilità della chiave Permette al rivenditore Il guadagno al successivo acquisto 3. Gestione facile del portafoglio licenze Tramite software gestionale online gratuito Si può Generare le nuove licenze Gestire i rinnovi Effettuare acquisti Informarsi su tutti i prodotti Richiedere supporto 4. Disponibilità licenze in più formati Una soluzione per ogni esigenza Generazione della licenza alla vendita Generazione della licenza e consegna in scatola Scatola chiusa contenente la licenza 5. Formule di acquisto personalizzate Singoli acquisti Pacchetti offerta Conto vendita Quotazioni personalizzate per quantità Nessun minimo di acquisto obbligatorio 6. Esclusiva di zona L'obiettivo Quicklo È coprire ogni area in modo omogeneo Senza sovrapporre il raggio di vendita dei propri rivenditori Quicklo Ti offre la possibilità di ottenere una zona in esclusiva Sulla base di quartiere Comune O provincia Quicklo In Italia Oltre 600 rivenditori Distribuiti in tutte le regioni Se la tua zona è ancora libera Il prossimo puoi essere tu